Regione Lazio invia rinforze alla disastrata Roma-Lido. A partire da lunedì 2 ottobre, Cotral attiverà un servizio integrativo su gomma a sostegno della linea ferroviaria, mettendo a disposizione 10 bus da 70 posti che effettueranno una corsa ogni 15 minuti nelle fasce orarie dalle 6.30 alle 9.30 e dalle 16.30 alle 19.30. Il servizio è partito in via sperimentale in questi giorni, attivo da lunedì al venerdì su due tratte, la linea 1 Ostia-Lido e Urmagliana e la linea 2 Express Ostia-Lido-Eurfermi-Metro B via Cristoforo-Colombo. Da 2 ottobre, terminata la prima fase di sperimentazione, le due linee integrative saranno in grado ad operare oltre 60 corse al giorno e nello specifico effettueranno le seguenti fermate. Linea 1 Lido Centro-Acilia-Casalla-Bernocchi-Tordivalle-Eurmagliana. Linea 2 Express Lido Centro-Stella Polare-Via Colombo-Viale Oceano Atlantico-Eurfermi.